Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo trovato in possesso di armi e droga. Un arresto e oltre 900 grammi di droga sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo sono stati i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno assieme alle unità cinofile del primo nucleo operativo metropolitano di Firenze a fermare all'uscita del casello autostradale A1 del Valdarno una persona. L'uomo al momento del fermo è stato segnalato con insistenza anche dai cani antidroga e così i finanzieri hanno deciso di sottoporre a perquisizione anche la sua abitazione che si trova nel comune di Cavriglia. Proprio lì sono stati ritrovati 81 grammi di cocaina, 862 grammi di hashish già suddivisi in vari panetti, due bilancini di precisione, diversi cellulari e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Oltre alla droga è stata ritrovata anche una scacciacani con matricola a brasa e 55 munizioni, il tutto detenuto illecitamente. L'uomo è stato così arrestato e condotto presso la casa circondariale di Arezzo. Dovrà rispondere di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi. È stata invece disposta dalla procura l'autopsia sul corpo della 59enne lasciato di fronte al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. La procura di Arezzo ha disposto l'autopsia per stabilire l'esalta causa della morte del 59enne Aretino lasciato di fronte al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. L'uomo, noto alle forze dell'ordine come assuntore di sostanze stupefacenti, lo scorso martedì era stato scaricato da un'auto nella cosiddetta camera calda, tra la prima e la seconda porta d'ingresso del pronto soccorso, già privo di sensi. Immediatamente i sanitari lo avevano soccorso, ma ogni tentativo era risultato vano, il 59enne era morto infatti poco dopo. Non è chiaro se la morte possa essere collegata all'uso di droghe, per questo il pubblico ministero ha conferito l'incarico all'equipe di medicina legale dell'Università di Siena per eseguire l'accertamento. Proseguono anche le indagini portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo, che sta raccogliendo testimonianze ed ha già acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza. L'obiettivo è quello di rintracciare chi ha lasciato il 59enne all'ospedale e cosa possa averlo ucciso. Solo dopo potranno essere valutati se e quali reati potrebbero configurarsi. Un episodio movimentato ad Arezzo questa mattina invece a bordo di un autobus di Autolinea Toscane carico di studenti. Una donna avrebbe iniziato ad urlare e infastidire i passeggeri, sembrava stato confusionale probabilmente per l'uso di alcolici e gridava frasi sconnesse. L'autobus si è fermato e sono state chiamate le forze dell'ordine che una volta giunte sul posto hanno fatto scendere la donna. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine la situazione è tornata alla calma. E adesso la cronaca giudiziaria, il caso di Guerina Piscaglia. Questa mattina si è tornata in aula per la causa civile. Sono stati ascoltati alcuni familiari della donna scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. Cosa gli vorrei dire a padre Cassiano? C'era ora che dicesse la verità. E' un appello a cuore aperto quello che i familiari di Guerina Piscaglia rivolgono a Gratien Alabi. Il corpo della donna scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014 non è mai stato ritrovato e per lei ancora una tomba non c'è. Eh, sarebbe giocato. Nelle aule del Tribunale di Arezzo va avanti con l'audizione dei testi. La causa civile è intentata dai familiari della donna che hanno chiesto un milione di euro alla diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro e all'ordine dei Premo Stratenzi al quale apparteneva a Gratien Alabi come risarcimento. Poiché a nostro avviso era stata avvisata di una situazione di pericolo, sarebbe dovuta intervenire per cercare di evitare quello che poi è successo. Di fronte al giudice Fabrizio Pieschi va avanti anche un altro procedimento di fatto speculare, la causa è intentata dalle sorelle e dalle nipoti di Guerrina. Il giudice in questo caso ha già disposto una perizia per valutare il danno psicologico e morale patito dai familiari. Ci aspettiamo anche che il giudice d'ufficio disponga la stessa perizia. Per Lorenzo ormai sappiamo che la perdita della mamma è una cosa particolare proprio perché anche dal processo penale è emerso che c'era un attaccamento particolare tra Guerrina e Lorenzo e di conseguenza Lorenzo senza la mamma ha perso il baricentro della quotidianità. Gratien Alabi all'epoca vice parroco del piccolo paese è stato condannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere della donna. Era inchiuso nel carcere di Rebibbia dal quale continua a professarsi innocente. Non era presente in aula e non ha nemmeno nominato un legale che lo rappresenti sarà giudicato in contumacia. Voltiamo pagina dopo le temperature quasi primaverili torna il maltempo. Una perturbazione in avvicinamento verso la Toscana con correnti d'aria miti e umide porterà in quasi tutta la regione condizioni di maltempo con pioggia e vento. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla da oggi che interesserà per vento forte i crinali appenninici della Romagna, Toscana e della Valtiberina per poi estendersi dalla mezzanotte fino alle 18 di domani alla Toscana centro meridionale e all'arcipelago. E adesso ci spostiamo invece a Talla dove ci sono stati degli avvistamenti di lupi e così la sindaca ha firmato un'ordinanza. Noi dobbiamo creare situazioni di rispetto e corretta convivenza per noi e per loro. Gli ultimi avvistamenti di lupi anche in zone del centro abitato di Faltona, frazione del comune di Talla. Segnalazioni di cittadini che hanno portato alla sindaca a firmare un'ordinanza. Possiamo solamente mettere in campo dei comportamenti che scoraggino la familiarizzazione con i lupi e quindi insomma per far sì che si avvicinino meno ai centri abitati. L'obiettivo dell'ordinanza è dunque quello di prevenire da un lato le situazioni di pericolo ma anche e soprattutto sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da tenere. Nell'ordinanza evidenziamo quali possono essere i fattori di rischio, quindi la facilità di reperire del cibo in contesti urbani. Si indica anche che non dobbiamo lasciare cibo per gli animali domestici in posti raggiungibili dagli animali selvatici. Quindi ripulire dopo che si è dato da mangiare agli animali, si è messi anche per esempio gatti. Se poi prendono l'abitudine e sanno che in quel posto trovano i croccantini del gatto il cibo per gli animali e poi dopo si avvicinano ovviamente e prendono questa abitudine che è un'abitudine che non è naturale. E poi ovviamente evitare di lasciare gli animali domestici alla catena, ovviamente questo già non si può però giova sempre ricordarlo, specialmente lasciare gli animali liberi di vagare la notte. Gettare correttamente i rifiuti, quindi non lasciare i sacchetti magari esposti non in contenitori perché anche queste sono situazioni in cui c'è l'esposizione appunto di resti di cibo che possono incoraggiare questi animali. E poi evitare in tutti i modi non familiarizzare con il lupo. Cioè il lupo se si vede un animale in difficoltà si chiamano le autorità competenti, non si fanno azioni spontanee, non gli si dà da mangiare perché non si possono nutrire selvatici ma anche questo giova sempre a ricordarlo, che sia un lupo, che sia una volpe, che sia un cinghiale non gli si dovrebbe dare da mangiare perché poi ci si trova una situazione in cui questi animali si avvicinano sempre di più al centro abitato e già si avvicinano di suo. Se poi noi li incoraggiamo non è cattiveria, è semplicemente vivere in equilibrio con ciò che ci circonda, nulla di più. Ammonta a 500 mila euro la dotazione finanziaria con cui la Regione per il 2024 concede indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione provocati dai lupi. Le risorse sono state messe a disposizione dalla Giunta regionale su iniziativa della Vice Presidente e Assessora all'Agroalimentare Stefania Saccardi come riconoscimento a queste aziende dei danni appunto provocati da questo animale. beneficiari dell'aiuto saranno le microimprese, le piccole e medioimprese. E adesso parliamo di sanità. È stata presentata all'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo la programmazione dell'area vasta Toscana Sud-Est. Ad un anno dalla firma del documento di programmazione integrata tra l'azienda ASL Toscana Sud-Est e l'azienda ospedaliera di Siena si traccia il bilancio appunto di questo anno appena trascorso il 2023 e si pensa alla programmazione per i prossimi tre anni fino al 2026. Tutto questo nell'ottica di migliorare i servizi al cittadino e ad esempio abbattere anche le liste di attesa. Un aumento del numero degli interventi e delle procedure, un aumento della sicurezza per i pazienti, un aumento del livello culturale delle professionalità all'interno dell'azienda. Producendo un uso ottimale della risorsa, evitando i doppioni, consente di essere anche più produttivi. Quindi una delle sessioni tra l'altro stasera riguarderà per l'appunto anche le sinergie che si determinano dalla collaborazione aziendale per il contenimento delle liste di attesa. È uno dei terreni su cui le due aziende stanno lavorando assieme. Una sinergia che ha consentito importanti passi in avanti, ad esempio nella chirurgia pediatrica e anche in un ambito specifico della cardiologia. Prima di questa collaborazione i bimbi e le bimbe che dovevano essere operate venivano a Siena, adesso li stiamo operando anche ad Arezzo. Quindi questa testimonianza è il fatto, lei parlava di chilometri, in questo caso le abbiamo abbattute i chilometri. Facciamo ambulatorio e interventi chirurgici. Ci spostiamo noi nelle quattro sedi ospedaliere e operiamo e nello stesso tempo facciamo ambulatorio, pre e post chirurgico. Con la longevità dei nostri giorni, gran parte dei pazienti anziani, circa il 30%, nonostante i sintomi, non può essere candidato alla chirurgia. Esiste questo tipo di interventistica in ospedali con la cardiochirurgia, ma noi partecipiamo a questo studio, si chiama Trax, il paziente valuta la possibilità di impianto di queste valvoli in ospedale senza cardiochirurgia. Quindi è una cosa molto importante. Abbiamo eseguito due interventi, sono andati molto bene, senza complicanze, i pazienti stanno bene e quindi si apre questa possibilità per un futuro ovviamente sempre più tecnologico, sempre meno invasivo e con la possibilità di andare a soddisfare quei fabbisogni che fino ad oggi non sono stati soddisfatti per i pazienti appunto non candidabili alla gara di chirurgia. Critica la vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti, presente oggi. Un'occasione ha dichiarato mancata da parte della regione per dare una risposta riguardo ai finanziamenti destinati all'ospedale San Donato di Arezzo. Molti argomenti sono stati affrontati negli interventi in programma ma l'assoluto silenzio sui 150 milioni per l'ospedale Aretino in 5 anni, oltre 70 PNRR, è un affronto alla città e a tutta la sua provincia, ha concluso Lucia Tanti. E ancora sanità, sono possibili disagi per gli utenti dell'Asla Toscana Sud-Est per l'intera giornata di domani a causa dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto dalle associazioni sindacali. In relazione all'adesione potrebbero quindi verificarsi variazioni al normale svolgimento dei servizi al pubblico. Ed è su un'iniziativa rivolta alla popolazione organizzata da Lions Club Arezzo Nord-Est, Croce Rossa Italiana, Comitato di Arezzo e Leo Club Arezzo. Sabato 24 febbraio dalle 9 alle 14 infatti in piazza Saiacopo sarà allestito un gazebo per la prevenzione medica pubblica gratuita. Test per valori glicemia, pressione arteriosa, saturazione, saranno rilasciati i test scritti con i valori rilevati. Rondine, cittadella della pace, invece, viste le tantissime manifestazioni di interesse richieste ricevute da tutta Italia per poter partecipare al quarto anno, ha deciso di prorogare la scadenza del bando. Un anno di scuola internazionale per crescere nella relazione, imparare a trasformare i conflitti e progettare il proprio futuro a servizio del bene comune. È il quarto anno Rondine, un'opportunità educativa e formativa riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l'innovazione didattica. Le richieste nelle ultime settimane sono arrivate da ogni parte d'Italia per conoscere meglio il quarto anno e partecipare all'ottava edizione ed è stata così prorogata la scadenza del bando al 15 aprile 2024. Io penso che un mio coetaneo, una mia coetanea, dovrebbe valutare e poi scegliere l'opportunità del quarto anno a Rondine perché credo sia effettivamente l'esperienza giusta che ti permette di vedere il mondo da un'altra prospettiva, anzi da altre prospettive, non solo una ma diverse. Il progetto si rivolge a studenti e studentesse dei licei classico, scientifico e scienzumane di tutta Italia, una proposta formativa internazionale ed interculturale unica che combina l'esperienza consolidata in oltre 25 anni di formazione di Rondine con il mondo della scuola italiana attraverso il metodo Rondine. Partendo dal punto di vista della scuola è stata un'apertura totale verso una nuova visione di scuola molto più aperta che mi coinvolgeva anche di più e che rientrava molto più anche in quelli che erano i miei personali parametri e dal punto di vista relazionale invece mi ha aperto un mondo su come ci si può relazionare con persone più grandi, persone più piccole e anche un sacco di realtà che ci stanno intorno con la mia realtà, con il mondo circostante ma soprattutto anche con le persone che mi stanno di fianco. La superstar della lirica Vittorio Grigolo sarà ad Arezzo protagonista di un recital sabato 2 marzo alle 19 al Teatro Petrarca l'iconico tenore Aretino sarà protagonista di una serata su aria ed opera nell'ambito della stagione concertistica Aretina il cartellone di appuntamenti promosso dalla Fondazione Guido d'Arezzo Comune di Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrezzanon e il sostegno del Ministero della Cultura Domenica 25 febbraio invece alle 17 i concerti di musica da camera dell'associazione Le Sette Note di Arezzo che si trasferiscono presso la consueta sede di Camu la Casa della Musica di Arezzo si esibiranno in concerto il trio formato da Gianluca Piomboni e Clarinetto Carmelo Giallombardo alla Viola e Marco Lazzari alla Pianoforte il concerto avrà un costo simbolico di un euro Voltiamo pagina questa mattina è stata infatti presentata la sedicesima edizione del campionato italiano di ciclocross organizzata dal comando dei vigili del fuoco di Arezzo in memoria di Maurizio Ponti caporeparto prematuramente scomparso a pochi mesi dal pensionamento la manifestazione in programma sabato 24 febbraio al Colle del Pionta e vedrà la partecipazione di ciclisti provenienti da 25 comandi di tutta Italia e adesso passiamo al calcio è attiva la prevendita per la gara Spallarezzo in programma venerdì alle 20.45 allo stadio Mazza di Ferrara la società estense come deciso dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive ha messo a disposizione dei tifosi Amaranto 200 biglietti di settore ospite al costo di 12 euro potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso la tabaccheria in località Bagnoro dalle 19 di stasera per questa gara infatti non è prevista la vendita online e questa mattina la consueta conferenza stampa di mister indiani sentiamo Cesena e domani Ferrara sono due ambienti in cui sono stato e vado volentieri a giocare perché veramente c'è quel qualcosa in più la squadra che ora tra l'altro sta bene perché ha vinto in casa ha vinto a Pescara ha pareggiato a fermo da quando è tornato il primo allenatore mi sembra sono a 7 punti in 3 partite la squadra sta bene ma poi siamo destri e ci stupivavamo quando l'organio della spalla era in zona play-out giocatori importanti realtà importante e forse ecco forse ci arriviamo proprio nel momento peggiore per noi e in un momento positivissimo per loro però niente alibi figuriamoci andiamo per fare la nostra partita ma è sempre e l'obiettivo di fare due vittorie assolutive certo e l'abbiamo fatta una volta sola vediamo se si rifanno certo l'obiettivo è quello andiamo sempre per vincere non andiamo mai per pareggiare andiamo sempre per vincere sapendo che dire e fare c'è l'avversario ci sono tante cose però quello in conto è che come ha detto bisogna ci sia le prestazioni se ci sono le prestazioni come si diceva dopo Conte d'Era dopo Cesena no che non avevamo vinto però da parte dell'anato mi sembra che sia venuta una logia inappuntabile sicuramente secondo logia con una logia inappuntabile come tutte le volte abbiamo cambiato sempre cambiamo con una logia inappuntabile non senza logia con una logia inappuntabile sotto ogni punto di vista ottimi risultati per gli esordienti della chimera nuoto nella seconda prova invernale un gruppo di 31 nuotatori e nuotatrici nati tra il 2012 e il 2015 è sceso in vasca a cortone in una manifestazione valida come tappa di avvicinamento ai prossimi campionati regionali e a confronto con coetanei di 11 società delle province di Arezzo e Siena è riuscito ad emergere con 5 primi posti 3 secondi posti e 3 terzi posti questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci